e ciao a tutti ragazzi e oggi siamo tornati su stumble geyser e benissì ragazzi stiamo tornando su stumble geyser dopo tantissimo tempo perchè come potete vedere adesso vi mostrerò un video che adesso vedrete come potete vedere se vedete benissimo io ci ho già fatto un video esattamente 11 mesi fa quindi raga io sono stumble geyser è praticamente un anno che non ho riporto su questo canale quindi ho deciso di riportarlo perchè non ho deciso di riportarlo perchè sta andando sempre virale su tiktok perchè raga io sto anche in molte liste su città quindi se ancora mi piace il talk vambia a seguire mi raccomando e niente sono un sacco di persone che fanno delle live su stumble geyser quindi ho deciso di riportarlo anche su youtube bene ragazzi se volete altri video di stumble geyser mi raccomando iscrivetevi al canale tappate anche la campanella e mi raccomando iscrivetevi se come siete iscritti ok ragazzi allora quando io ti ho fatto un altro video non avevo queste skin qua infatti io ci giocavo senza fare i video però raga da quando non l'ho disinstallato è rimasto sempre così e non abbiamo più giocato quindi ho deciso di riprovarlo per vedere se è cambiato qualcosa o no però effettivamente ragazzi non è cambiato niente praticamente però vabbè allora andiamo al negozio che abbiamo un bel po' di offertucce quelle belle 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 offertucce traducere abbiamo le offerte gratis quindi ancora dobbiamo aspetta perché ci ho giocato anche ieri ora dobbiamo chiamare ma allora facciamo un video e raga lo riporto allora io le skin schino allora ho questo che era quello il stambo normale quello che avevo sempre all'inizio ho la tizia che è la missy stambo quello che usano le femmine ho questo qua che è un ladro che è bellissimo però non lo uso poi abbiamo questo tizio tutto invernale che prima usato utilizziamo anche questo però adesso io userò questo l'alino rosa che è il più bello di tutti ok adesso iniziamo a giocare vorrei provare a di nuovo a giocarti perché raga secondo me non è cambiato niente però raga sto vedendo che hanno aggiunto nuove mappe quindi in teoria dovrebbe essere più bello molto più bello ok tiro il falco verso la prima ok adesso ci giochiamo ok ti ho guardato che bello sono troppo bello sono poiché giovano allora dove bisogna andare ah ho capito come si fa ok no vabbè vabbè mi hanno rischiato deve essere qualificato per niente questo StumbleGuys ragazzi è del 2021 è simile molto simile al StumbleGuys benissimo ragazzi ci siamo qualificati comunque ragazzi StumbleGuys è molto simile è tipo una copia di FallGuys infatti ragazzi oggi è del 2 giugno e sapete che torna oggi vero? ecco esatto oggi ragazzi FallGuys su Nintendo Switch sulla Playstation e tutt'altro è diventato gratis quindi potete da oggi a luna potete praticamente prenderlo gratis infatti io raga sono felicissimo di questa cosa perché non ci ho mai giocato a FallGuys infatti quando ero nel 2020 volevo sempre giocarci però non sono riuscito a installare quindi lo installerò in più i panni questo non so che cosa sia ma penso che bisogna evitare le palle quindi è tutto semplice qua ecco ho piegato con una martellata perfetto oh guarda questo come davanti ok no la palla è andata iniziamo malissimo ragazzi però dai oh ragazzi mi qualifico la prima volta cioè io spacco tutto ok secondo round secondo pezzo di partita ok evitiamo le palle ora andiamo qui evitiamo i cannoni e andiamo ragazzi non ci credo ragazzi non ci credo qualificati no ragazzi sono troppo forte sono troppo forte vai tizio questo tizio ha una patta nella testa non si capisce molto bene però ha qualcosa sulla testa ok ragazzi vediamo quattro siamo adesso no ragazzi sono uno tra gli otto ok dobbiamo vincere dobbiamo vincere allora prossima partita vediamo quale ci capita eccola oddio space race cos'è sta roba ragazzi non l'ho mai vista vabbè proviamo non vincerò sicuramente tanto è palese oh no puntiamo anche sì ma vabbè allora è impossibile se saltiamo fa il 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 quello di perché raga non c'è il mio odio nello spazio quindi è normale che facciamo queste cose qua no raga è impossibile però è un po' impossibile perché non l'avevo mai fatta mai proprio mai la cosa però che fluttui porca miseria sta piangendo è palese che non vinciamo cioè guardate sono praticamente l'ultimo penso penso di essere l'ultimo comunque raga non devo saltare perché se salto perdo ecco ok saliamo di qua ecco appunto l'avevo detto che non vince vediamo che ha vinto ma vabbè raga non me non mi cerca niente però bravo per lui che ha vinto e raga sicuramente semplicemente dovrei vincere anche una partita però non so se questo capiterà mai vabbè vediamo quanto abbiamo ricevuto beh dai non è poco allora no no raga le pubblicità no però allora comunque ragazzi questo gioco mi sa che si può giocare solamente con la condizione quindi io non posso mettere modalità aereo quindi grazie basta basta condizione grazie mille allora per boccare la prossima soglia che è la 5 cosa ci dà la prossima soglia raga una skin casuale o normale o superiore ma fa schifo allora cioè dai io preferisco mettere moltissimo questa cioè fatemi capire ma vabbè ok ragazzi nuova partita iniziamo a fare nuova partitine vediamo che mappa ci capita stavolta ti prego una facile dai bene altre palle spingo round anche questa pensi di non avvela mai fatta però se la fatta un anno fa beh non penso di ricordarmi tutto di quello che ho fatto un anno fa quindi è impossibile ok dobbiamo saltare qua se ce la faccio però però ste cavoli piattaforme che si muovono rompono un po' mh avete capito dai non è possibile dai non è possibile dai basta le odio ste piattaforme devo uscire le odio ora quando ci sono piattaforme che si muovono è tutta una mafia è avversa tutto si le odio i fornici forci si vabbè dai e vai prima partita qualificati ah beh è un semplice direi betis è questo cara che è l'ultimo non vincere di sicuro poverina però c'erano anche altre persone che non hanno quindi non è rimasto solo le e già siamo rimasti in 16 mi sa si esatto ed eccolo lì odia ragazzi la skin da lupo la vedete che paura ok ragazzi prossima partitina allora non penso quanto durerà questo video però non ho idea spero che durerà poco perché altrimenti voi incazzate perché non lo vedete tutto quindi vabbè allora prossima round vediamo cosa ci cambia no di nuovo questa no però no di nuovo questa no perdo di sicuro perdo di sicuro no dai questa qua di nuovo no l'odio sta marco fa schifo al cavolo perché quando frutti fa schifo perdo di sicuro perdo di sicuro perdo di sicuro Oh E' un po' di nuovo! Guarda le odio a fare più di te BASTA! Basta con sta mappa, fa schifo al... E' vero che qua sono i miei rimanenti Sto proprio curiosa per chi vince, però ragazzi non ce ne frega niente degli altri Ok, torniamo alla lobby Poco stavolta, purtroppo, però Potevo far di meglio, eh Sì, potevo fare di meglio Comunque ragazzi avete la mia amicizia Adesso dopo vi faccio vedere alla fine del video il COD Se volete mandarvi l'amicizia Solo per questo Perché altrimenti se non ci giocate a StumbleGuys, alla fine Oddio, di nuovo questo è delle palle? Ma perché forse? Vissimi che perché le fanno... Ok Si gioca Che lag, lag, lag Sì, come dice me, tizio, comunque Si fa un lag assurdo, comunque Oddio, no, non beccare le palle Aldo, non beccare le palle Ok Mi chiamo Oddio Porca di veria Ok, spero che ho fatto Non ci credo Non ci credo Oh, per l'ultima partita raga avevo vinto Porca di veria, avevo vinto E vabbè dai, caccato Quanto dai, abbiamo vinto Quindi Ci va anche bene Vediamo quanti rimanenti 16 rimanenti E vai Sì, sì Un Ma perché c'è un babbo Natale Ma la volta che non ti chiami la skin Scusa che da Natale è passato molto tempo Siamo ad estate E L'avete capito Successivo vediamo Ok Non cadere Cos'è questa mappa Non cadere Ok, ma Forse dobbiamo saltare degli ostacoli Ah, aspetta Ah, ma quelli con i mezzi spaccati si rompono Ah, ok, perfetto L'ora è easy Dai, c'è Un blocate Con i due sentiti eliminati Perfetto Allora Insieme a te Non ti faccio passare Allora Vedi, bravo Non mi giro perché mi hai fatto laggare però, eh Ma l'avete Mamma mia, quanto rischiato Quanto rischiato Quanto rischiato Quanto rischiato Quanto rischiato No, 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 no Ok E il mio posto è morto abbastanza Ok Ok Oddio No, dai No, dai Qualificato Come è possibile Ragga, ero caduto Che culo 4.4 No, vabbè, raga No, vabbè Ma state scherzate Cos'è sta roba Oddio Siamo nel Nel deserto Ragga, siamo in 4 Siamo in 4 Dai Caminieri Corante Corante non si riesce a vincere così e ha vinto sta cucinella del cavolo sta cucinella maledetta ragazzo mi sta lagga il telefono quindi probabilmente è quello il problema perché non ci fa vincere abbiamo bloccato? no 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 dai raccomando perché? basta con la possibilità basta! si 5 5 si abbiamo capito adesso basta non ce ne frega un cavolo di niente e grazie che cosa è successo? no no basta non voglio giocare no 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 non voglio giocare grazie ora che buona ricompensa a meno questo dai ti prego a meno una ricompensa buona dai ti prego una skin va bene guarda una skin oddio ti prego una leggendaria ti prego una leggendaria si 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 una epica no 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 raga non ci credo non ci credo non ci credo chili penguin raga una epica no raga non ci credo c'è la fine del video e adesso puoi dare fortuna no raga no sto sclerà non ci credo ahi ragazzi comunque il video può anche potremmo anche concluderlo piuttosto vi sia piaciuto spero anche perchè vi siete divertiti eh vabbè allora eh non so qual è il mio scoso del vabbè dai l'avete capito quello del degli amici però non penso che si possa fare però se volete giochiamo in live su twitch una volta però ditemelo voi nei commenti ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bellissimo like iscrivetevi al canale e niente ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao